benvenuti al circolo arci guernelli in via ganduzio 6 a bologna la bella qui nei circoli e nei centri sociali cittadini hanno luogo le attività ricreative e culturali al circolo arci guernelli ce ne sono molte ecco il bar molto attivo e gradito con tavolini all'aperto per le giornate più calde ai piani superiori simpatiche sorprese ecco la sala biliardi tre biliardi di qualità sui quali si disputano le competizioni cittadine a fianco i giocatori di carte si sfidano nei vari tornei procedendo oltre ecco la sala scacchi e i suoi scacchisti di qualità il circolo arci guernelli offre tutto questo ma anche di più ecco la cucina per le cene sociali e le occasioni di festa qui cuochi di ogni specie accendono i fornelli per servire tipici piatti bolognesi come i tortellini fatti a mano una sala di fianco ed eccoci negli studi di cora dove i psicologi vi accoglieranno per aiutarvi a farvi strada fra le intemperie della vita e infine al termine di questo lungo edificio che è il circolo arci guernelli eccoci nella biblioteca meridiana dove grandi e bambini possono effettuare prestiti di libri dischi in vinile videocassette e molto altro qui le attività crescono e si diramano nei vari settori favorendo la cultura e lo sviluppo delle proprie idee questo era e questo è il circolo arci di guernelli in via ganduzio 6 a bologna la bella e buonasera amici della spettatore benvenuti a circolo guernelli telesventi te solo oggi 30 settembre svegliamo tutto il guernelli non siamo macellari non siamo nient'altro che venditori di cose che non sono nostre te 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 con che cosa iniziamo giangi cominciamo con la tavola da biliardo perfetto un qualcosa di unico un qualcosa di irripetibile una opera magna del post modernismo moderno e giangi per favore una telefonata ve la passo vediamo chi c'è in linea pronto vediamone con la caverna sono interessato a quel tavolo da biliardo che secondo me meraviglioso lei oggi ha fatto un affare mega galatticissimo universalissimo lei ha trovato nel posto giusto nel momento giusto la chicca giusta lei è proprio giusta giusta arrivederci colpo di scena la goduria è qui con noi bene giangi dici qual è l'altra chicca per favore le coppe le coppe possono essere usate come bicchieri portatele set di coppe di tutte le dimensioni tutte queste coppe sono per voi i guernelli per vincere queste queste bellissime coppe hanno messo anni e tanto impegno e noi ve le svendiamo in un secondo ci sono telefonate c'è una telefonata da napoli perfetto bene pronto salve buonasera con chi parlo mi chiamo antonio chiamo la provincia di napoli sono interessato a chi le coppe perché secondo me fanno fanno molto bene nel salotto voglio fare una follia voglio superare qualsiasi passo è falda in qualsiasi manicomio oggi queste cose le diamo a otte ore e cinquanta bene giangi qual è il terzo solleviamo queste cose dimmi il terzo è quella cosa da scacchi quello che avete lì davanti è contento solo lui giangi comunque come voi sapete qui al circolo guernelli telesvenditi è da 30 anni che abbiamo una sala scacchi ragazzi ci sono delle chiamate rispondete quanto? buonasera mi chiamo Karim appena arrivato in Italia ha detto una sera ciao Abdul benvenuto qui da noi ha detto Karim ma in tutti i casi abbiamo i cavalieri che avanzano verso i mondi sconosciuti per conquistare il vostro universo e la vostra casa a me piace perché non c'è il razzismo capito tra bianco e nero con bianco e nero non c'è il razzismo solo che il gioco degli scacchi parte sempre dal bianco quindi c'è il razzismo bene Karim arrivederci 051 051 051 benissimo continuiamo qui la nostra trasmissione del guernelli sbendita giangi si ragazzi con che cosa continuiamo? cioè la prossima è la macchina da presa quella con cui hanno girato i documentari del guernelli è una macchina da presa? a me sembra un fermaporta ammirate che simosità che movimenti qui potrete riprendere tutto quello che vi pare ben usata da Rossellini Rosselli Rosi Rosetti Rosalinda Roserosse Roserosse hanno fatto tutti i più grandi film dell'universo conosciute cose dall'Italia nel mondo ragazzi c'è una chiamata dalla Sicilia pronto pronto buonasera 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 carissimo buonasera cosa come si chiama? mi chiamo Totò Totò con delle sillabe Totò e arrivederci veniteci a trovare amici telespettatori ricordate il guernelli svende tutto alla grandissima diciamolo mi fai sentire caldo te lo giuro manca solamente sta trota salmonata e non l'hai presa ancora Ettore sbrigati mi sento diverso una testa di pesce una testa di cernia inclobata in una trota l'unica suona è ripetibile in bronzo può venderemo tutto a buon prezzo per fare fare a fai a voi ma ricordiamo sempre guernelli svendite 051 051 051 e adesso diamo spazio alla pubblicità dà 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 intensive Grazie.